Io sono un interazionista. Lo so che la maggior parte di voi non ha mai sentito parlare di questa professione. Non preoccupatevi, non siete gli unici. Pensate che la prima volta che l'ho detto a mio padre pensava che avessi detto internista. No, non sono un medico internista, sono un ingegnere e professore in università dove faccio ricerca e insegno corsi di interazione umano-intelligenza artificiale o IA per gli amici. Cosa fa esattamente un ingegnere interazionista? È semplicemente uno che studia come le persone interagiscono con le tecnologie digitali e in particolare la IA, l'intelligenza artificiale, per rendere queste interazioni più intuitive, più efficaci e direi anche più significative. Un aspetto importante del nostro lavoro, soprattutto in ambiti professionali, è progettare l'uso delle tecnologie affinché usarle non ci porti a perdere competenze e capacità importanti come saper leggere una radiografia oppure valutare un candidato per una posizione lavorativa. Cioè non capiti quello che accade a chi non ricorda più numeri di telefono o non sa orientarsi senza usare uno smartphone. Intendiamoci, non sono uno psicologo, sono un progettista di tecnologie. In particolare progetto e valuto le modalità in cui le persone utilizzano gli strumenti digitali per lavoro e confronto soluzioni e processi alternativi per migliorare la loro esperienza d'uso, soprattutto in ambiti di lavoro critici, delicati come le risorse umane, la medicina, dove ogni decisione, pensate ad una diagnosi oppure un'assunzione o una promozione, ha effetti rilevanti sulla vita delle persone. Ora potreste chiedervi ma perché tutto questo dovrebbe interessarmi? Bene oggi vi parlerò di decisioni rilevanti per ciascuno di noi, quelle che professionisti esperti prendono ogni giorno e che possono riguardarci tutti o come pazienti o come candidati per un lavoro o clienti di una banca o forse un domani ma speriamo mai come imputati ad un processo. Sempre più spesso queste decisioni sono prese con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale. Infatti queste decisioni possono essere prese consultando dei sistemi particolari che si chiamano sistemi di supporto alle decisioni e che spesso integrano al loro interno componenti di intelligenza artificiale predittiva. Nonostante il nome questi sistemi di rado ci aiutano a predire effettivamente il futuro, piuttosto ci aiutano a classificare oggetti ad esempio banane rispetto a quanto sono mature, sì anche queste cose perché l'intelligenza artificiale è soprattutto questo e poi più in generale ci supportano ad associare casi o persone a categorie significative quali sano, malato, ad alto potenziale, ad alto rischio. Quando in ambito professionale l'intelligenza artificiale ci aiuta a prendere decisioni complesse chi si occupa di interazioni come me piuttosto che uso preferisce usare il termine affidamento, reliance. Pensateci, un martello, beh si possono fare tante cose con un martello però di fatto ci limitiamo ad usarlo. Invece uno strumento, un sistema che è in grado di darci dei veri e propri suggerimenti in un certo ambito di expertise, di conoscenza, è più simile a un collega esperto che ad uno strumento e la ricerca più recente ci suggerisce di considerarli esattamente così per fare meno errori. Infatti perché l'affidamento a un supporto decisionale sia appropriato, il medico, il selezionatore di risorse umane o il giudice deve poter sviluppare una relazione con quel supporto, con quello strumento, una relazione di cauta fiducia che prende forma a partire da molti fattori tra cui la nostra familiarità con questo strumento, tutte le interazioni che abbiamo avuto in passato con quello strumento o simili strumenti e soprattutto il modo in cui interagiamo con essi. L'affidamento può essere più o meno appropriato e su due piani diversi ma che si completano a vicenda. Il piano epistemico e quello etico. Quello epistemico riguarda semplicemente la conoscenza e la capacità di rispondere correttamente a domande come quella persona ha un male grave oppure no, oppure qual è il trattamento che è migliore per quella persona. Il piano etico invece riguarda più la domanda della risposta, cioè se sia giusto cercare di rispondere a una determinata domanda qualunque essa sia con la tecnologia piuttosto che con l'intuizione, la creatività, l'empatia tipicamente umane. Quindi sul piano epistemico l'affidamento è appropriato quando? Quando ci fidiamo della macchina quando ha ragione e non ci fidiamo quando si sbaglia. E questo accade più spesso di quanto si immagini. Quando facciamo un errore perché ci fidiamo troppo della tecnologia digitale si dice che siamo affetti da distorsione da automazione, automation bias in inglese. Questo prima era un termine che conoscevano solo gli specialisti ma ora ne parla pure il nuovo regolamento dell'intelligenza artificiale in Europa che è diventato una legge recentemente in tutti gli stati dell'Unione Europea, compresa ovviamente anche l'Italia. Nei nostri studi in ambito medico l'automation bias capita fino al 5% delle volte e non è poco. Pensateci, si tratta di una decisione importante come può essere appunto una diagnosi oppure la decisione se assumere una persona, ogni 20 decisioni da prendere con il supporto della macchina che sbagliamo proprio perché ci fidiamo troppo della macchina. E poi c'è anche il problema opposto. Quando facciamo un errore nonostante la macchina ci abbia suggerito la risposta giusta è perché non ci siamo fidati. È un fenomeno che si chiama avversione all'algoritmo e che dipende da quando ci sentiamo più bravi delle macchine. Anche questo però è un affidamento non appropriato perché non abbiamo evitato un errore che avremmo potuto fidandoci appunto di un supporto tecnologico più bravo di noi in un determinato caso. E qui viene in soccorso l'interazionista. Come? Beh, proponendo uno specifico protocollo di interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale. Cioè un modo di affidarsi o non affidarsi all'AIA che sia adatto ma anche adattato ad uno specifico contesto lavorativo, al tipo di compito decisionale, al ruolo, all'expertise del professionista. Nei nostri studi abbiamo definito cinque protocolli generali adatti a diversi contesti lavorativi e uno di questi riesco a descriverlo anche ora in poche battute. Si chiama protocollo di inibizione e si basa sulla semplice idea che se non lo usi lo perdi. Che cosa? Ovviamente il cervello. Secondo questo protocollo l'utente può consultare il suggerimento dell'AIA solo dopo che ha registrato una sua prima decisione del caso in esame per evitare ovviamente di farsi condizionare dalla macchina. Solo dopo averlo fatto l'esperto si confronta anche con la macchina, con l'AIA e alla fine registra la sua decisione definitiva, ad esempio una diagnosi sul referto. Con questo protocollo si mitica il rischio di automation bias e che i medici perdano familiarità con il loro lavoro e anche certe abilità, ad esempio diagnostiche, come se l'AIA fosse un collega a cui il medico si rivolge per una seconda opinione. Non una protesi, un bastone cognitivo o un sostituto a cui affidarsi anche troppo e quindi in maniera impropria, inappropriata. E qui arriviamo al piano etico. Sul piano etico infatti l'affidamento all'AIA è appropriato quando non si esagera e l'uso è sostenibile nel medio e lungo periodo. Si parla spesso di sostenibilità dell'intelligenza artificiale ma solitamente si intende la sostenibilità ambientale delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa, cioè quante risorse naturali ed energia consumano queste applicazioni ormai divenute molto popolari. Ma nel caso dell'AIA a supporto delle decisioni complesse o delle decisioni legalmente rilevanti, io sostengo che ci sia un tipo di sostenibilità molto più importante, quella umana. L'affidamento è sostenibile umanamente quando non mette a rischio e non erode il capitale umano. Il capitale umano non comprende solo quello che sappiamo o sappiamo fare, cioè le nostre capacità e conoscenze. Anche la voglia di impiegare tale capacità, di metterle in gioco, fa parte del capitale umano di un'azienda e anche di ciascuno di noi. E ultimo ma non ultimo, fa parte del capitale umano anche la motivazione necessaria per condividere e trasmettere conoscenza ai colleghi meno esperti e ai più giovani. Nel lavoro di intelletto è stato osservato una specie di effetto di fenomeno paradossale. Più ci affidiamo ad un sistema di intelligenza artificiale che noi sappiamo essere molto potente, preciso, affidabile e più ci demoralizziamo. Da una parte siamo ovviamente contenti di essere diventati più efficienti e di fare meno errori. Dall'altra però ci sembra di perdere gusto in quello che facciamo e arriviamo pure a dubitare di essere davvero utili a qualcosa. È la cosiddetta erosione del senso di agentività, cioè quella della sensazione è di fare un po' nel nostro piccolo la nostra parte, la differenza. Ed è questo che molto spesso ci dà la voglia di andare avanti, nonostante tutto. Questo ci porta alla necessità di andare oltre tutto questo discorso sull'intelligenza artificiale. Parliamo piuttosto di intelligenza ibrida. Cos'è l'intelligenza ibrida? Mi piace definirla come un processo, un bellissimo ballo, un passo a due, quando un esperto umano e un sistema di intelligenza artificiale collaborano, cioè danzano insieme, secondo una coreografia che può anche essere stata proposta da uno come me, da un interazionista, ma che viene interpretata ogni volta nell'interazione tra un professionista e il suo supporto decisionale. Bene, l'intelligenza ibrida ha tre caratteristiche principali. Prima di tutto l'intelligenza ibrida non la sviluppa nessuno al posto nostro. Non si compra, né si scarica come un'app. Dipende da come un professionista usa un sistema di supporto alle decisioni. Io posso anche progettare un'IA bellissima, capace, affidabile, trasparente e posso pure concepire un protocollo di interazione che tutela il vostro capitale di conoscenze. Ma non conoscerò mai il vostro lavoro quanto lo conoscete voi, né il vostro atteggiamento nei confronti di questo genere di strumenti. Quando c'è intelligenza ibrida, poi, non ha più senso distinguere tra i suoi due ingredienti. Cioè l'intelligenza umana è quella artificiale. È come quando si mescolano il tuorlo d'uovo e l'olio e otteniamo qualcosa di radicalmente diverso, la maionese. Secondo, se la quantità d'olio è eccessiva e non si sbatte adeguatamente, lo sappiamo tutti, la maionese può impazzire. E allo stesso modo, se non c'è affidamento appropriato, non c'è vera intelligenza ibrida. La combinazione di intelligenza umana e intelligenza artificiale deve portare a risultati superiori a quelli che otterrebbero le due tipologie di intelligenza separatamente, singolarmente prese. Questo significa che dobbiamo raggiungere un numero maggiore di decisioni rilevanti e prese per tempo e ovviamente un numero minore di errori che possono avere un impatto sulla vita di qualcun altro e anche sulla nostra vita. L'intelligenza ibrida è quindi qualcosa di nuovo e di più potente, perché replica in piccolo quello che sappiamo fare meglio di qualsiasi altro animale su questa terra. Collaborare, condividere idee e progetti e fare squadra verso un obiettivo comune. In questo caso sto parlando di fare squadra con delle macchine. Terzo, nell'intelligenza ibrida noi e i sistemi di intelligenza artificiale ci influenziamo a vicenda, ci adattiamo l'uno all'altro e forse la cosa più importante impariamo l'uno dall'altro. Come sapete queste macchine sono progettate per accogliere dati che ci riguardano, per soddisfarci meglio, allinearsi meglio ai nostri interessi, le esigenze, i bisogni, ma anche noi dobbiamo imparare da loro. Sì è così perché queste macchine, dopo tutto, nascono da tutto quello che il genere umano ha scritto negli ultimi 25 secoli e dalle nostre migliori decisioni. È questo che imparano i cosiddetti sistemi di apprendimento automatico. Per questo io li vedo come dei portali a un sapere immenso e che appartiene a ciascuno di noi e penso che possano essere come dei colleghi esperti o addirittura dei mentori, una tecnologia che è progettata per aiutarvi a diventare migliori in quello che fate e in un certo senso anche per diventare più liberi perché la conoscenza è libertà. Questa per me è l'intelligenza ibrida. Quindi vi propongo di smettere di pensare così tanto all'intelligenza artificiale. Fate come gli interazionisti. Certe storie lasciamole ai racconti di fantascienza. Non parliamo più così tanto di tecnologia ma piuttosto della relazione che possiamo creare con la tecnologia. Parliamo di noi stessi, di cosa possiamo diventare noi con questi nuovi compagni di lavoro o di studio se ci affidiamo ad essi conoscendo i loro limiti e consapevoli delle potenzialità che possiamo raggiungere noi insieme a loro. La prossima volta che sentirete parlare di I.A. e che leggerete proprio queste due lettere I e A, non pensate all'intelligenza artificiale. Pensate piuttosto all'intelligenza aumentata, la vostra intelligenza. Grazie.